pensare di sognare trovandosi nella realtà ormai già adulti senza rendersene conto ripensare ai propri dieci anni quando si giocava per le strade con gli altri bambini con grandi aspettative per il futuro con tanti sogni ripensare ai propri vent'anni quando per uscire bastava solo la voglia di divertirsi e perché no quattro risate e mille progetti trovarsi nella realtà avere ancora mille progetti poterne realizzare pochi avere quasi 30 anni andare avanti per inerzia della vita e ricominciare a vivere